L'unica a dire è che mi dispiace e basta, non si può dire sulle altre persone, sulle altre persone perché loro sanno a casa sua cosa c'è e cosa non c'è. L'ultimo ad abbassare le serrande in centro è la storica ferramenta Bellieni. Ultimo giorno di lavoro sabato scorso era aperta dal 1983. Il prossimo a chiudere sarà il bar al municipio. Hermes, gestore tra i più amati e riservati del centro storico, lascia a 67 anni per godersi la pensione con la promessa di affiancare chi prenderà il timone dello storico locale all'ombra di Cassugana. 25 metri quadrati per 750 euro di bolletta della luce, l'ultima quando ancora il condizionatore non era acceso. Tempi duri anche per le storiche botteghe del centro. Chi resiste mette in campo esperienza e passione in una città che raccontano non essere più la stessa da anni, tra fitti molto alti, rincari e numero di residenti che si è dimezzato. 1897 che l'attività è di famiglia e sono la quarta generazione. È la passione sostanzialmente che oggigiorno è l'unica cosa che ti porta avanti, che porta avanti queste attività e la ricerca sempre di qualche prodotto che sia un po' innovativo pure rimanendo nella tradizione della nostra attività. Io sono la quinta, più due generazioni di un'altra famiglia che c'era prima di noi quindi superiamo i 200 anni. Io ogni tanto ci penso, ma chi me l'ha fatto fare? Mutui, spese, covid, calo di lavoro, poca gente che abita in centro quindi meno affluenza di clienti. Tante volte dici che me l'ha fatto fare eppure continuo perché c'è la voglia di portare avanti qualcosa che ce l'hai dentro nel cuore insomma. Non è che le cose vadano benissimo, specialmente in certi momenti e in certe fine settimana che non sono più quelli di una volta ma per fortuna c'è finalmente il supporto del turismo. Se un giorno mettiamo non dovessi farcela toccando ferro verrà fuori l'articolo, due o tre giorni così se ne parlerà poi finisce tutto, purtroppo questa è la realtà. Io mi auguro che i pochi che ci sono ancora tengano botta e che anche perché rappresentiamo il passato di Treviso che è stato sempre un passato eccezionalmente bello. Io mi auguro di continuare finché la salute mi assiste. Grazie a tutti.